e riviusi a smr ciao ragazzi come state? spero tutto bene oggi si vede metà microfono perchè c'è una sorpresa sono andato al super e ho preso due slime nuovi di zecca allora questo è bianco con i brillantini gritte e questo è blu ora li andremo a vedere insieme e a sentire soprattutto il suono che fanno andiamo ad aprire prima quello bianco allora dov'è? sì perché ci ho messo la carta perchè così almeno non si sitta ecco qua ok ho messo la carta così almeno non si secca e adesso è sempre morbido guardate ragazzi questo qua è super glitteroso è trasparente con i glitter dorati e guardate quanto è fashion e bello e adesso pronti con lo slime siete pronti? buon relax diciamo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Bene ragazzi Adesso andremo a vedere Quello blu Wow Ragazzi Il blu è il mio colore preferito Guardate quanto è bello ragazzi È stupendo È fichissimo È proprio bello 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 Andiamo a sentire il suono Grazie a tutti 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 Bene ragazzi Aspettate che c'è qualcuno che vi vuole salutare E vai E' caduto il briottino Quello che usiamo per fare i clu Quello che usiamo per fare i clu 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 con i nostri picchierini Comunque eccolo qua mi vuole salutare dici qualcosa dai oddio va bene dai ci vediamo al mio prossimo video spero che questo video vi sia piaciuto e io e Zeus vi salutiamo ciao